L'Olimpico e capitano della becca di basket in Piacenza, Matteo Solagna. Con il numero 8, classe 82, alla grande, proviene da Scafatti dove ha vinto la Coppa Italia di Lega 2, Massimo Rezzano. Con il numero 9, giovanissimo, proviene dal settore giovanile di Latina, si è aggregato la prima squadra in Lega 2, Filippo Guerra. Con il numero 11, uno degli ultimi arrivati, ma solo in senso cronologico, playmaker, classe 87, Tommaso Tempestini. Con il numero 12, è arrivato a metà dello scorso anno, è già entrato nei cuori bianco-rossi, Giuliano Zanoggia. Con il numero 15, centro, classe 1983, proviene da Viena, dalla serie 2, Diego Banti. Con il numero 19, giovanissimo, classe 97, guardia Paolo Zaffi. Con il numero 20, l'ultimo arrivato in senso cronologico, classe 94, ha giocato a Roma, Ennio Lanzio. Con il numero 21, ha raggiunto il fratello Giuliano, qui alla Becari Basket a Piacenza, Matteo Samoggia. Con il numero 88, era 99 lo scorso anno, ma per farmi dispetto è diventato 88, Mattia Magrini. Questa è la nuova Becari Basket a Piacenza, ovviamente assieme a Forest Cafe, c'è sempre Cadella, che sarà il tuo vice in questa grande... Vorrei come sia Pietro, che Filippo, che Marco, e anche Francesco, che fa parte di noi. E adesso vorrei una cosa strana, che mi dovete togliere questo desiderio. Per una volta voglio che la prima squadra, vorrei che la prima squadra applaudisse i meravigliosi composi di Piacenza. Quasi un grande... Per una volta voglio che la prima squadra, che la prima squadra, che la prima squadra... Grazie.